Nasce onorevole Granata oggi Generazione Italia anche in Sicilia ma con una situazione di grande confusione all'interno del governo regionale. Qual è la posizione di Generazione Italia rispetto a questa situazione politica? Generazione Italia è uno strumento prezioso aperto ai giovani e alla società siciliana. Ovviamente non abbiamo presentato a Palermo Generazione Italia per parlare del rapporto col governo regionale ma come classe dirigente continuiamo a sostenere questo governo ma diciamo che da questo governo vogliamo qualcosa di più. Vogliamo un progetto chiaro sull'utilizzazione dei fondi comunitari, un progetto chiaro di coinvolgimento nelle scelte dei ceti produttivi e della meritocrazia soprattutto dei giovani che escono dalle nostre università. Insomma noi non abbiamo firmato una cambiale in bianco al governatore Lombardo che sosteniamo lealmente ma riteniamo che dobbiamo far partire una nuova fase dell'azione del governo che sia all'altezza delle aspettative anche di ciò che le potenzialità di questo governo per le professionalità che ha al suo interno possono esprimere. Generazione Italia che sia, lei ha detto, arcipelago di idee che abbia questa capacità di ascolto che oggi forse il PDL non ha avuto? Assolutamente, è uno strumento indispensabile. Quando qualcuno si era accontentato di un testo molto grave che era uscito dal Senato sul disegno di legge delle intercettazioni sono state migliaia e migliaia le proteste da parte di questo popolo che attraverso i mezzi telematici è riuscito a confortarci nelle idee che avevamo e siamo tornati sulla necessità di assicurare certamente la privacy ma anche strumenti indispensabili per il contrasto alle mafie a partire dalle indagini delicatissime sulle grandi stragi siciliane. Per questo crediamo che Generazione Italia possa essere un patrimonio importantissimo per l'intero PDL ma soprattutto per la politica italiana. È una grande area di partecipazione, spero soprattutto giovanile. Grazie per la visione!